buona giornata con l'almanacco barba nera oggi è il 15 ottobre si ricorda santa teresa d'avila il nome teresa è di origine incerta alcune ipotesi lo riconducono alla lingua greca a termini come teros estate terizzo mietere o terao cacciare ma anche al nome di terasia un'isola dell'arcipelago di santorini dice il proverbio per santa teresa si semina a distesa sono nati oggi virgilio nic italo calvino il 15 ottobre 1815 napoleone inizia il suo esilio a sant'elena dove morirà il 5 maggio 1821 nel 1990 amica il gorbachev riceve il premio nobel per la pace per i suoi sforzi nello smorzare la guerra fredda tre anni dopo è la volta di nelson mandela per aver liberato il sud africa dall'apartheid infine il 15 ottobre 2001 la sonda galileo della nasa passa a 180 chilometri da io una delle lune di giove dh ha detto il problema non è mai come farsi venire in mente qualcosa di nuovo ma come eliminare le convinzioni vecchie arrivederci da barba nera dal 1762 l'almanacco più amato d'italia